Oggi mi è venuto a trovare Manolo Ah Manolo che ti va a mangiare? Oh ti ho portato una cosa, fammi sapi va Ah dei bei straccetti di De Manzo, allora fammo un bel panino Taglie! Si inizia sempre con l'olietto in padella Spicchietto d'aglio in camicia E pure un po' di rosmarino E giù gli straccetti Sale, pepe e rosola a fiamma alta Quando sono pronti li mettiamo da parte Quindi una bella cipolla tritata Fammo due va E giù nella stessa padella dei straccetti Manolo è il mio braccio destro, sono tre anni che lavora con me Due olivette Capperetti Fogliolina d'alloro E giù la passata di pomodoro Peperoncino in polvere E rimettiamo lo straccetto per 5 minuti Insieme al trucco di nonna Goccio di vino rosso a fine cottura Maionese Puntina di senava in grani E adesso pensi anche tu quello che penso io? Bravo Sono pronto Bravo Spacchiamo il pane Maionese Straccetto al pomodoro Cin cin Fammi sapere cosa vuoi vedere nella prossima ricetta Ciao 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 Ciao